bonnaaa beh dai io lo metto, vado scossati Daniel, scossati beh vedete che probabilmente va fuori ok wiii togli i copi dei copi a terra oh mazzo ma sta mach 10 l'ho fatta una bomba intanto questo lo lascerò con 2 secondi raga da me se potete venire e io sto in sto angolo sto safe e io ero pure contento vado ce n'avevo sentito parlare non avevo mai trovato avete colpi giacco st st per l'altro vento due ti bastano ho capito, ho capito, ho preso vabbè quanti manco li posso riprendere in questo modo il posto è in un'area guarda il posto è in un'area guarda 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 il t il è forse Ah che io voglio provarlo Vanni, dove hai fatto vedere il gioco? È per fare Sparate queste due, ma vai, ti chiamano anche io per questo, Giovanni Ma muore Mi chiamano tutti Non viene atterrato Non va nel gulag Ulla che qui non ci sta Run, get the zone Maia Oh, figlia mia Chiamelo Inizioni sopportissime Dovete mettere le munizioni da 10 mm Da dove? Da sopra Ok, prendo Sì, uccido Mi sto uccidi tutti, raga Maia 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 Sii!!! Sii!! Giovanni sii! Andiamo a chung! Oha! Gigi! 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 Nisi Poi ti vuoi più, la notte Io voglio vedere quante kilo ho fatto Ho fatto tipo 6 Ho fatto tipo 6 di kilo. Grazie a tutti.